resterà l'ingresso del cimitero di via rimembranze a perenne memoria la targa donata al comune di concorezzo in ricordo dei concittadini morti a causa del covid durante la pandemia a quattro anni esatti dalle drammatiche immagini delle bare trasportate dai camion a bergamo la giornata dedicata alle vittime del coronavirus è diventata in tutta italia l'occasione per lasciare una traccia indelebile nel ricordo di chi morì spesso in una tragica solitudine è arrivata una proposta di un cittadino concorezzese un imprenditore che ha vissuto il dramma del ricovero in ospedale e ci ha chiesto di valutare la possibilità di dedicare uno spazio a tutte quelle persone che ci avevano lasciato senza il conforto di un ultimo saluto abbiamo installato una targa proprio di ricordo perenne di quei momenti del dolore della lontananza e per ricordare l'importanza di coltivare rapporti intimi con i propri cari fino in fondo a concorezzo le vittime accertate a causa del covid sono state 70 e di quei mesi che oggi sembrano così distanti in un mondo cambiato radicalmente restano ricordi difficili da dimenticare per chi si ritrovò in mezzo alla tempesta sono stati in momenti molto dolorosi durante i quali però ho scoperto una concorezzo veramente attaccata alle proprie radici alle proprie tradizioni alla propria gente e la capacità soprattutto di stare vicini alla gente abbiamo ringraziato gli alpini la protezione civile abbiamo donato loro anche una medaglia al valore civile tutta la comunità i medici gli infermieri gli psicologi i semplici cittadini si sono stretti intorno al concorezzo ci hanno aiutato a uscire da quei momenti difficili senza di loro non sarebbe stato possibile